sarà un Matera Regina alla scoperta delle seconde linee, o quasi, nel pomeriggio del ventunesimo settembre. Sì, la Coppa Italia rappresenta sicuramente un obiettivo prestigioso e i Lucani l'hanno sfiorata nella finale persa contro il Venezia della scorsa stagione, ma da una parte, e dall'altra c'è bisogno di far riposare i propri effettivi per rituffarsi da sabato nel campionato. Cosa possibile per Auteri e il Matera? Non proprio. Nove indisponibili, tre berretti tra i convocati, e praticamente stessi uomini costretti a giocare senza pause da circa un mese. Tonti agirà tra i pali così come dopo l'infortunio di Golubovic di sabato, mentre in difesa, sarà Trio Scognamillo Buschiazzo Sernicola come Arende. A centrocampo Salandria sulla fascia destra, Battista probabilmente adattato a sinistra e uno tra Urso ed è Falco pronto a lasciare il posto a Maimone nella zona nevralgica della mediana. In avanti ballottaggi vari ma dovrebbe scattare l'ora del duo Sartore Corrado, con Giovinco a completare il trio. Per la regina, dopo la remontata subita in casa del Lecce, Maurizio ha annunciato ampio turno over. Tra i pali spazio a Licastro, nella difesa 4 ecco Tazza, Gatti, Laezza e Porcino da destra verso sinistra. A centrocampo Marino, in ballottaggio con Garufi, Mezzavilla e Fortunato, in attacco di Livio a supporto di Bezziccheri e uno tra Silenzi e Sparancello. Col primo favorito. Amaranto che vengono da un periodo positivo e nel quale riescono ad esprimersi attraverso il bel gioco, in terra lucana la Coppa Italia sarà da onorare fino in fondo.